Una in primo, l'altra in secondo grado di giudizio. Sono due le cause che vedono protagonista il Movimento Trieste Libera e la rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste contro lo Stato italiano. Il ricorso alla Corte d'Appello riguarda la causa fiscale, che, detta in soldoni, vede un contenzioso tra le parti riguardo le tasse dovute dei cittadini del territorio libero di Trieste e lo Stato centrale. Si tratta della causa fiscale generale sul regime, appunto, fiscale del territorio libero di Trieste attuale affidato all'amministrazione del Governo italiano. La causa afferma che si possono pagare al Governo italiano amministratore le tasse compatibili col regime fiscale del territorio libero di Trieste e non le tasse dello Stato italiano. La differenza è che le tasse compatibili sono circa un terzo di quelle che paghiamo adesso. La seconda causa, martedì ore 9, Corte d'Assise, riguarda invece l'IVA. L'IVA è una tassa che si può imporre, si può applicare solamente nel territorio dello Stato e quindi della Repubblica Italiana. Il territorio libero di Trieste non fa parte della Repubblica Italiana, ma è uno Stato indipendente e quindi qui noi non siamo tenuti a pagare l'IVA italiana. La causa si terrà nel Tribunale di Trieste, nella Corte d'Assise del Tribunale di Trieste, anche visto il numero di partecipanti, hanno già aderito 258 persone, quindi partiamo già molto forte da questa prima udienza, ma sarà possibile aderire anche prossimamente, quindi tra la prima e la seconda udienza. Quindi sicuramente ci sarà un notevole incremento della partecipazione per questa ulteriore ed importante causa a difesa dei diritti dei cittadini del territorio libero e del Porto Franco internazionale di Trieste.